Il Comune di Battipaglia, attraverso il suo responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza Brunella Asfaldo, si è dotato di un'apposita piattaforma attraverso la quale sarà possibile inoltrare e ricevere, in forma del tutto riservata, le segnalazioni di disfunzioni e di illecita gestione delle procedure amministrative. Il segnalante potrà essere un dipendente del Comune e la sua azione dovrà avere come finalità non la tutela di un suo interesse personale ma la tutela dell'integrità e del buon funzionamento dell'ente. Quando questa finalità sarà accertata, il segnalante avrà diritto ad una tutela di riservatezza completa e rafforzata. La piattaforma in uso è totalmente indipendente da ogni ingerenza o controllo informatico interno al Comune ed è gestita attraverso un particolare sistema di criptografia, in remoto secondo le linee guida dell'ANAC.